Ho scommesso una fortuna su di te, cerca di non farmela perdere. Beh, perché non ti muovi? Ordinami di lavorare e ti obbedirò. Tuo padre mi ha comprato per questo, ma io non mi umilierò mai per far ridere te e i tuoi ospiti. Però, ha del carattere. Sesto, fa frustare questo bigliacco. Io non credo che sia un bigliacco. Comunque la frusta gli farà bene. Comunque la frusta gli farà bene.